Musica Rieccoci anche nel 2022, buongiorno e bentrovati cari amici di Padre Pio TV, buongiorno e bentrovato Faezio, ci facciamo gli auguri, ecco anche a distanza di una settimana, ma gli auguri sono sempre accetti. Auguri allora e pace bene a tutti e bentrovati in questo nuovo anno per riprendere la nostra scuola. Sì, l'abbiamo definita una scuola all'inizio dell'anno televisivo, chiamiamolo così, quella alla quale ci siamo messi, come si suol dire, quella dei santi in maniera particolare di coloro i quali sono in cammino verso il riconoscimento ufficiale della Chiesa della propria santità. Sono santi della porta accanto, abbiamo visto, santi che hanno avuto delle vite straordinarie, santi che hanno avuto anche delle vite misteriose, ecco passatemi anche questo aggettivo, ma tutti accomunati da un unico filo rosso, quello della sequela a Gesù Cristo. E in questo caso, anche quest'oggi, in questo mese di gennaio, in questo 2022, riprendiamo lo stesso filo conduttore. E lo vogliamo fare, Fraezio e cari amici, con una figura che a noi è molto vicina, sia per affinità spirituali, ma anche perché è una figura che ha avuto nella comunicazione il modo principale di agire. Sto parlando e stiamo parlando del beato Giacomo Alberione, vogliamo partire allora con una breve scheda biografica e poi ritorniamo qui in studio per ascoltare, attraverso le parole di Luciano Regolo, un collega giornalista, quanto è importante questa figura anche a distanza di 50 anni dalla sua morte. Vediamo insieme la scheda biografica. Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina, fu uno dei più creativi apostoli del XX secolo. Nato a San Lorenzo di Fossano il 4 aprile 1884, ricevette il battesimo il giorno successivo. Il piccolo Giacomo, quarto genito, avverte presto la chiamata di Dio. In prima elementare, interrogato dalla maestra su cosa farà da grande, gli risponde, mi farò prete. Al termine dell'anno santo del 1900, già interpellato dall'enciclica di Leone XIII, Giacomo vive l'esperienza determinante della sua esistenza. Nella notte del 31 dicembre 1900, prega per quattro ore davanti al Santissimo Sacramento. Una particolare luce gli viene dall'ostia e da quel momento si sente profondamente obbligato a far qualcosa per il Signore e per gli uomini del nuovo secolo. Nel seminario di Alba svolge il compito di padre spirituale dei seminaristi e di insegnante di varie materie. Si presta per predicazione, catechesi, conferenze nelle parrocchie della diocesi. Comprende che il Signore lo guida ad una missione nuova, a predicare il Vangelo a tutti i popoli, nello spirito dell'Apostolo Paolo, utilizzando i mezzi moderni di comunicazione. Il 20 agosto 1914, mentre a Roma muore il santo pontefice Pio X, ad Alba Don Alberione dà inizio alla famiglia paolina con la fondazione della Pia Società San Paolo. Nel 1962 fino al 1965 Don Alberione è protagonista silenzioso ma attento del concilio Vaticano II, alle cui sessioni partecipa quotidianamente. Nel frattempo non mancano tribolazioni e sofferenze. Visse 87 anni. Compiuta l'opera che Dio gli aveva affidata, il 26 novembre 1971 lasciò la terra per prendere il suo posto nella casa del padre. Il 25 giugno 1996 Papa Giovanni Paolo II firmò il decreto con il quale venivano riconosciute le virtù eroiche del futuro beato. Ecco abbiamo visto una foto che lo ritraeva insieme a padre Pio e il beato Giacomo Alberione. Allora attraverso le parole del dottor Luciano Regolo vogliamo approfondire un po' di più questa vita straordinaria, questa esistenza votata alla comunicazione come abbiamo avuto modo di ascoltare. Don Giacomo Alberione possiamo collocarlo sicuramente tra le figure di spiritualità più importanti del XX secolo e la sua grande capacità fu quella di aver intuito la forza che avevano i nuovi mezzi di comunicazione per poter evangelizzare. Lui aveva il desiderio di portare Gesù e prendeva ispirazione proprio da Maria come regina degli apostoli. Cioè Maria secondo il beato Alberione doveva essere la maestra di tutti gli apostoli contemporanei perché lei aveva donato Gesù al mondo e così il suo desiderio era quello di donarlo a tutti, quante più anime possibile. Per questo i mass media che per molti erano visti come un pericolo, una distorsione eccetera, invece potevano diventare uno strumento per far entrare la parola di Dio e quindi Gesù in tutte le case. Ed è quello che è riuscito a fare. In questo consiste anche la grandissima attualità del beato Alberione perché anche oggi è un momento in cui abbiamo dei mezzi di comunicazione che quasi sembrano minare i valori cristiani. Per esempio pensiamo ai social o tutti gli altri pericoli, il comunicare per slogan eccetera. Eppure anche in questi mezzi di comunicazione è possibile portare i valori cristiani se con uomini veramente di buona volontà e di fede. Ecco perché la caratteristica più importante del beato Alberione è che viene detto anche l'editore di Dio perché costituì alla fine periodici, anche dei film, la San Paolo Film, cassette, audio. Era diventato come dire un editore di Dio nel vero senso della parola però senza mai perdere la sua intimità. La preghiera doveva essere l'ispirazione di tutto. L'affidamento al Signore era la grande forza del beato Alberione quindi ci lascia un'eredità preziosa anche per noi giornalisti e in questo vedo una grande attualità per chi fa comunicazione nel mondo cattolico ossia cercare di anche nella nostra professione portare quelli con la nostra testimonianza di vita ma anche con la nostra verità e basti pensare al recente messaggio di Papa Francesco. Dobbiamo far camminare, dobbiamo consumare le scarpe per andare incontro alla verità però anche ascoltare, ascoltare e saper porgere, ripeto, in ciò che noi diciamo e scriviamo il Signore. La grande intuizione di Alberione fu quella di usare anche le riviste, il cartaccio ha dato luogo a famiglia cristiana che compie proprio quest'anno 90 anni, entrava in tutte le famiglie ma anche Iesus, altre riviste che sono nate dopo anche il beato Alberione sulla base delle sue intuizioni, madre di Dio riteneva che attraverso il giornale si potesse portare la parola di Dio quindi il pulpito diventava proprio le colonne di un giornale potevano essere pulpito perché questi sacerdoti che si occupavano di queste riviste avevano una grande opportunità di entrare in tutte le case, in tutte le famiglie con umiltà come diceva lo stesso Alberione, c'è una bellissima lettera che lui ha scritta famiglia cristiana, in occasione se non vado errato dei 30 anni della rivista in cui diceva non ha bisogno di grandi lussi, entra modestamente ma vi parla col cuore vi parla con amore e ha veicolato in effetti la parola di Dio pensiamo a quante Bibbie sono entrate in case che neppure la conoscevano grazie alle testate San Paolo, quanti spunti di riflessione, quanti commenti delle sacre scritture L'editore di Dio, mi è piaciuta molto questa definizione che il collega Luciano Regolo ha dato del beato Giacomo Alberione ecco nel periodo della pandemia Fra Ezio ti chiedo una battuta quanto è importante avvicinarsi ancora di più della Chiesa ai mezzi di comunicazione? Ecco come dicevamo anche le altre volte i Santi hanno sempre quel passaggio in avanti poi siamo ancora nel tempo natalizio in cui celebriamo il mistero dell'incarnazione la capacità della Chiesa di poter parlare la lingua dell'uomo e comunicare sappiamo che oggi una delle lingue preferite dai giovani sono appunti social da Twitter a Whatsapp alle altre realtà quindi dobbiamo, ecco la televisione anche su questo ci aiuta utilizzare questo nuovo linguaggio appunto per poter comunicare cioè parlare la stessa lingua degli uomini Continuiamo ad ascoltare Luciano Regolo sulla figura del beato Giacomo Alberione Beato Alberione e San Pio di Pietarcina si conoscevano anche a distanza e si rispettavano a molte proprio per questo avviene l'unico incontro tra queste due figure il 3 maggio del 1965 probabilmente io ho avuto la fortuna di raccogliere la testimonianza dell'unico testimone superstite che era appunto Fra Luigi da Serra Capriola e qualche anno prima della sua morte nel 2018 mi raccontò per filo e per segno quanto ricordava perché il beato Alberione da Roma di buonissima ora con fratello De Blasio che era un fratello Paolino si mise in moto per venire in macchina a Foggia senza mai dire che sarebbe andato a San Giovanni di Rotondo chiedendo anche la massima riservatezza su questo incontro in realtà una volta arrivato a Foggia nel convento dell'Immacolata salirono altri due persone fra cui appunto Fra Luigi e un altro frate un altro religioso per recarsi al convento di San Giovanni di Rotondo e durante il viaggio nella preghiera che ognuno doveva impostare il beato Alberione la fece silenziosamente non parlò e quindi Fra Luigi commentava dicevo si vede che i santi parlano poco perché era proprio molto riservato ma molto concentrato nella preghiera questa è una caratteristica che in fondo era comune fra queste due grandi figure la ricerca dell'illuminazione attraverso l'interiorità, l'intimità con Dio aggiunti al commento di San Giovanni di Rotondo era stato preparato un piccolo pranzo ma il beato Alberione non tocca cibo come se avesse appunto fretta di parlare con padre Pio le ipotesi di questo incontro secondo Fra Luigi erano essenzialmente due da una parte diciamo che padre Pio aveva molto interesse di parlare con il beato Alberione della sua preoccupazione per il convento di Foggia che in quel momento rischiava addirittura la chiusura e comunque era in un momento molto difficile e tutti sapevano che il beato Alberione aveva un filo diretto un intimo rapporto con Papa Paolo VI tant'è vero che andò anche diciamo a visitarlo proprio abbiamo ricordato da pochi 50 anni della morte del beato Alberione andò proprio a visitarlo sul suo capezzale di morte e quindi il 26 novembre proprio del 1971 e quindi questo potrebbe essere una motivazione ma da canto suo anche il beato Alberione aveva delle cose da chiedere a padre Pio in modo particolare lui stava pensando alla realizzazione di alcuni ospedali di cui poi troverà seguito soltanto la regina degli apostoli ma in realtà voleva realizzarne ben tre uno per le suore Paoline uno per i frati Paolini per i religiosi Paolini e il terzo per tutti il clero poi non ebbe il tempo di realizzarli tutti e tre quindi voleva in pratica sapere come erano stati rimossi gli ostacoli per la casa sollievo della sofferenza ma quanto si dissero però resterà un segreto perché si appartarono mi è stato descritto da Fra Luigi una cosa commovente ossia che il beato voleva baciare le mani di padre Pio e lui le trasse e mi è stato descritto questa estrema ammirazione che era palpabile dell'uno verso l'altro e poi padre Pio disse anche successivamente ci fu un allora direttore delle edizioni Paoline che si chiamava Valentino Gambi che andò da padre Pio sempre accompagnato da questo religioso che faceva un po' anche da autista e appunto disse mi raccomando state a sentire perché siete alla scuola di un santo con Alberione non me lo ammazzare disse a chi guidava perché vedrete ancora quante cose farà perché vuole portare Gesù a tante anime quindi era perfettamente al corrente ho trovato qualche tempo fa una bellissima fotografia perché il beato Alberione vive tre anni in più rispetto a padre Pio nonostante fosse nato tre anni prima quindi sono praticamente coevi che tiene in mano una delle prime biografie di padre Pio quindi a testimonianza ulteriore del loro grande interesse così come rimangono sulla cronistoria del convento sia la firma sul registro dei visitatori del beato Alberione ma anche lo scarno racconto di questo incontro in cui due figure storiche ma soprattutto due figure della spiritualità si incrociarono figure storiche quella del beato Giacomo Alberione e quella di San Pio da Pietrelcina il cui incontro abbiamo provato a descrivere attraverso le parole di Luciano Regolo che davvero ci hanno dato un po' il senso di quello che deve essere stato questo incontro fra due santi noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo ancora qui in studio in diretta per parlare di un'altra figura importante di Santitare state con noi Rieccoci tornati in diretta e allora Fra Ezio la figura di cui vogliamo parlare in questa seconda parte del nostro programma viene dalla Sicilia ci spostiamo idealmente di diverse centinaia di chilometri dal Piemonte di Don Giacomo Alberione alla Sicilia di Madre Maria di Gesù Santo Canale e allora noi ci colleghiamo in diretta con il santuario che custodisce e lo vediamo inquadrato le spoglie mortali della futura santa e salutiamo Suor Giusi di Dio e Suore Emanuela Fasoli che sono con noi in collegamento appunto dal santuario pace e bene, bentrovate pace e bene a voi grazie, grazie per aver accettato il nostro invito allora noi Fra Ezio partirei subito con un breve profilo biografico come sempre della futura santa perché lo ricordiamo la beata Madre di Gesù di Santo Canale sarà beatificata prossimamente sarà canonizzata da Papa Francesco prossimamente allora ascoltiamo insieme un breve profilo biografico Maria di Gesù Santo Canale al secolo Carolina nacque a Palermo il 2 ottobre 1852 fin da bambina sentì il desiderio di consacrarsi al Signore pensando di entrare nel monastero di Santa Caterina ammalatasi per circa due anni dovette ritardare l'attuazione del suo progetto di vita religiosa nel frattempo con l'aiuto del parroco impostò una nuova opera sul solco della regola francescana il 13 giugno 1887 nella chiesa del collegio di Maria ricevette insieme ad altre giovani che desideravano consacrarsi a Dio il saio di terziaria regolare poiché il luogo dove dimorava era troppo stretto e angusto ottene dai genitori il permesso di abitare nella casa ereditata dai nonni vi si trasferì con le prime compagne l'11 febbraio 1891 cominciò così il suo apostolato di visita e servizio ai poveri e agli infermi aumentando il numero delle religiose sentì il bisogno di una regola che le venne concessa insieme al decreto di aggregazione del nuovo istituto all'ordine dei frati minori Cappuccini il 13 giugno 1910 la serva di Dio e le sue consorelle vestirono il saio Cappuccino la prima guerra mondiale fece sentire le sue drammatiche conseguenze anche sull'istituto le prove si fecero ancora più dure quando l'arcivescovo di Monreale pur elogiandone l'opera svolta invitò la serva di Dio a chiudere il noviziato lo scoraggiamento e le incomprensioni finirono per incidere sulla sua salute per curarsi fu costretta a trasferirsi a Palermo dei suoi fratelli riprese le forze ritornò all'istituto e il 24 gennaio 1923 l'arcivescovo le fece pervenire l'ordine di riapertura del noviziato e il decreto di conferma dell'istituto la serva di Dio morì il 27 gennaio 1923 e allora io andrei subito da Sor Giussi che è la superiore generale delle cappuccine dell'Immacolata di Lourdes per chiedere proprio ecco Sor Giussi qual è la spiritualità e quali sono le opere ecco di questa futura santa ecco intanto ci troviamo come dicevate voi a Cilisi il santuario che accoglie il corpo della madre e il santuario della beata santo danale ed è anche quella chiesetta che lei ha desiderato in vita il servizio diceva proprio quella casa da cui è partita tutta l'opera ed è proprio questa in cui ci troviamo e questa chiesetta l'ha desiderata e realizzata lei infatti non possiamo parlare del suo servizio ai poveri e agli ammalati se non partiamo dalla fonte dalla radice di cui lei stessa si nutriva e lei amava dire i suoi tre grandi amori sono Gesù e Eucaristia San Giuseppe e la Vergine Maria e diceva alle sue suore, alle sue figlie ho come sarei felice se potessi morire con gli occhi fissi in un'ostia consagrata e desiderava proprio essere sepolta ai piedi di San Giuseppe la caratteristica è proprio questo amore sponsale verso Gesù e Eucaristia in una relazione confidente con lui amava stare ore e ci raccontano le testimonianze delle suore amava restare ore e statica dinanzi a Gesù e Eucaristia in una relazione così confidente e simpatica che è propria dei santi lei quando chiedeva qualche grazia particolare a Gesù andava a bussare proprio alla porta del tabernacolo e ci raccontano le testimonianze un aneddoto simpatico ma anche molto bello che dice proprio questa sua relazione confidente con Gesù e alla Divina Providenza quella sera le suore non avevano pane non avevano da mangiare e preoccupate vanno dalla madre madre non abbiamo pane allora la madre si trovava dinanzi a Gesù dice datene alle orfanelle e alle suore ammalate e anziane allora le suore preoccupate sì madre ma non abbiamo da mangiare voi date quello che c'è richiamo un po' il miracolo del pane e lei sta dinanzi a Gesù e va a bussare alla porta del tabernacolo e dice a Gesù ti sei dimenticato delle tue spose delle tue figlie allora proprio in quel momento bussano alla porta due giovani con una cesta di pane dicendo alle suore abbiamo incontrato per strada un anziano e ci ha detto le figlie della Santo Canale non hanno da mangiare e lei ringrazia la Providenza riconoscendo in quell'anziano la figura di San Giuseppe che lei chiamava il vecchio raglio mio ecco è da qui da questa sua relazione sponsale con Gesù che scaturisce il suo donarsi il suo spezzare la sua vita aprendo gli occhi sui bisogni del territorio della chiesa locale lei che pensava di consacrarsi inizialmente alla vita monastica la vita di calosura nel monastero delle Domenicane di Santa Caterina vedendo i bisogni del territorio il bisogno di istruire religiosamente i bambini dice non potrei io invece di andarmi a richiudere in un monastero venire qui e aiutare il parroco come fa un povero parroco a rispondere a tutti questi bisogni lì dove mancano le madri certe cose sono proprio di noi donne e da qui inizia questa opera a Cinisi con i bambini con l'istruzione religiosa e accogliendo anche le orfanelle ma vedendo il suo modo tenero materno la sua bontà nell'educare i bambini anche molte famiglie benestanti di Cinisi chiedono di accogliere le loro figlie per educarle nasce così anche l'educandato ecco un'opera che continua anche Sor Giussi e i giorni nostri Fra Ezio ecco Sor Giussi io parto proprio da questa ultima parte che hai tu detto c'è la maternità che oggi è tanto desiderata alla società quindi chiederei a Sor Emanuela come oggi voi esercitate alla luce di questo bellissimo carisma bellissima figura che è la madre Maria questa maternità all'interno della nostra società qual'evoluzione ha avuto il carisma ecco beh innanzitutto come diceva prima Sor Giussi veramente la madre fondatrice è stato un esempio di maternità sia per le sue suore per le prime ragazze che l'hanno seguita ma anche per le bambine che ha accolto nella sua casa e anche per gli ammalati per chiunque le incontrasse veramente appunto veniva chiamata la signora madre signora perché no in virtù ma anche di grazia anche nei suoi modi di fare e madre per la sua tenerezza questa maternità che allora è stata un po' anche ostacolata da alcuni sacerdoti da alcuni laici che vedevano anche in questa quinta troppa tenerezza che secondo loro non riuscivano a guidare bene la congregazione in realtà poi come si è visto poi con la storia è grazie alla sua tenerezza materna che l'istituto è potuto fiorire grazie alla sua morte grazie a questo seme che è caduto nel terreno ha avuto tanti frutti come aveva avuto nella visione quando aveva vent'anni che ha visto due gigli Gesù gli ha offerto la grazia di poter vedere due gigli dentro il sangue cuore di Gesù contornato da tanti gigli piccoli e spiegandogli appunto che quei gigli erano lei e il padre spirituale e che con la loro unione spirituale nasceranno il futuro molte figlie e da questo siamo arrivate appunto fino ad oggi fino al 2021 aprendo anche altre numerose case fuori dalla Sicilia in Italia ma anche all'estero in Albania in Brasile in Messico e Madagascar e quindi veramente quanto sia stato il volere di Dio quanto sia stata docine al suo volere sia stata nelle sue maglie lasciato fare la sua volontà e attualmente il nostro servizio come lo facendo allora la madre fondatrice cerchiamo un po' di seguire i segni dei tempi quindi facciamo il catechismo aiutiamo i ragazzi in formazione assistiamo gli ammalanti sia a casa che in qualche ospedale accogliamo anche dei bambini nelle scuole dell'infanzia e quindi veramente cerchiamo di essere il più vicino possibile alla spiritualità della nostra madre che ancora oggi colpisce tante persone sparse in tutto il mondo che ci dicono veramente di sentirla vicino madre Maria di Gesù proprio come una madre ecco allora Sor Giussi ti chiederei 30 secondi perché siamo in chiusura di descriverci davvero in pochissime parole qual è l'attualità del suo messaggio prima di salutarci beh oggi veramente tante persone si rivolgono a lei per questa suo sentire e custodire in maniera materna e accompagnare nell'educare alla relazione con il Signore nell'educare a spezzare la propria vita con tenerezza con amore con una bontà materna il messaggio che arriva a noi i suoi figli ma a tanti figli a tanti laici di cui ci danno testimonianza bene noi vi ringraziamo allora salutiamo la bella Cinisi e abbracciamo tutti quanti voi perché questa figura davvero è una figura straordinaria che davvero ci aiuta a riflettere su tanti temi che sono di strettissima attualità come appena detto Sor Giussi grazie per essere state con noi e l'augurio che vi rivolgiamo è che siate non solo spose ma anche madri veramente che il Signore vi riempia di benedizioni in questo nuovo anno grazie Fra Enzo grazie a voi grazie auguri pace bene noi restituiamo ora la linea alla regia e poi ritorniamo ancora in diretta è l'ultima parte del nostro programma in questo sabato 8 gennaio la vogliamo dedicare come sempre a una figura di santità giovane è quella che vogliamo in qualche maniera trattare attraverso le parole dell'ospite che tra poco vi presenterò è quella di un sacerdote vissuto in un'epoca durissima per l'Italia per l'Europa per il mondo ecco in generale sto parlando di Don Giovanni Fornasini ascoltiamo il breve profilo biografico e poi torneremo qui in studio per parlare di questa vita davvero davvero spesa per gli altri Giovanni Fornasini nacque a Pianaccio di Lizzano in Belvedere provincia di Bologna il 23 febbraio 1915 entrato in seminario nel 1931 fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1942 nel tragico periodo dell'occupazione tedesca trasformò la sua parrocchia in un cantiere della carità mettendosi a disposizione di tutti coloro che necessitavano di soccorso durante l'eccidio di Montesole si adoperò per alleviare le sofferenze della sua gente venne ucciso all'età di 29 anni il 13 ottobre 1944 nei pressi della cappella di San Martino a Marzabotto durante il secondo conflitto mondiale prestò soccorso specialmente agli sfollati e alla gente rimasta in paese tra cui molti anziani e bambini più volte era intervenuto presso i tedeschi per aiutare i prigionieri o per far rilasciare persone catturate ingiustamente fra il 28 e il 29 settembre 1944 vi fu la prima strage sul Monte Sole in cui furono sterminate 770 persone il 29 settembre nel contesto delle vendette belliche naziste fu imprigionato dalle SS ma venne rilasciato perché riconosciuto estraneo la lotta partigiana il 13 ottobre 1944 un ufficiale tedesco invitò Don Fornasini a seguirlo in montagna per dare sepoltura ad alcune persone il servo di Dio lo accompagnò fino a San Martino di Caprara ma da qui non fece più ritorno il suo corpo venne recuperato nell'aprile 1945 dal fratello secondo la ricostruzione la morte del servo di Dio sarebbe avvenuta dopo un'agonia dovuta a maltrattamenti compiuti sulla sua persona la fama di martirio si diffuse subito e permane fino ad oggi unita ad una certa fama di segni ed ecco a parlare con noi questa mattina di Don Giovanni abbiamo in diretta con noi Don Angelo Don Angelo pace bene ben trovato ti chiederai ecco subito di presentarci questa bella figura e ti chiederai anche di sottolineare soprattutto un aspetto che è tipico di Don Giovanni che è quello dell'inclusione sì buongiorno a tutti e bentrovati come è stato ben presentato dal video Don Giovanni Fornasini è un prete giovane della diocesi di Bologna che muore dopo solo due anni del suo ministero sacerdotale che vive in una piccola parrocchia vicino al comune di Barzabotto Sperticano 333 abitanti una piccola parrocchia in cui lui si impegna perché tutti possono sentirsi accolti e aiutati per lui la parrocchia deve essere come la fontana della carità simile alla fonte della grotta di Lourdes a cui tutti possono attingere e incontrare una carità umile nascosta che è per tutti instancabile e vive da parroco in una situazione complessa perché gli uomini sono lontani al fronte ci sono i partigiani dopo a seguire sui monti e lui fa in modo che la parrocchia possa essere uno spazio di aiuto per tutti in maniera instancabile e senza timore di mettere a pericolo la propria vita in tutte le occasioni lui sono tantissime le occasioni in cui lui va a aiutare chi ha bisogno ecco Don Angelo a me ha colpito molto questa figura perché parliamo di una persona giovane in apertura di questo spazio noi di solito parliamo di santità giovane eppure sembra di parlare davvero di un uomo con un'esperienza radicata molto radicata soprattutto in un'epoca quella che hai descritto difficile perché la guerra davvero ha funestato l'Italia l'Europa e non solo da dove traeva la forza il nostro beato inizialmente nel ricercare le notizie su Don Giovanni ci siamo concentrati sugli ultimi giorni della sua vita sul martirio sul modo con cui gli è stata tolta la vita in maniera così dura ma poi per la causa di beatificazione abbiamo indagato la vita e abbiamo scoperto questo che Giovanni nella sua vita ha avuto tantissime difficoltà tantissime fatiche fin da ragazzo da giovane ma queste difficoltà e fatiche si sono trasformate in una scuola di vita che gli hanno poi permesso di imparare a mettersi nei panni degli altri e quindi Giovanni non è un eroe irraggiungibile che fa cose impossibili va di fronte alle SS senza timore una cosa che a noi sembra inarrivabile ma è un giovane che ha imparato della sua vita a donarsi agli altri faccio alcuni esempi quando è piccolo quando nasce il papà è soldato in guerra saprà mettersi nei panni dei ragazzi che hanno i papà in guerra il papà è migrante perché la famiglia è povera deve migrare lui è nato in un piccolo paese di montagna deve migrare in Corsica per lavorare lui capisce bene la situazione delle sue famiglie che hanno paura di non avere il mangiare alla sera a scuola viene bocciato in prima seconda elementare poi anche all'ingresso del seminario viene bocciato tre volte ebbene nel suo piccolo paesino farà una scuola con l'aiuto delle ragazze sfollate perché tutti possano formarsi avere gli strumenti per affrontare la vita poi un altro aspetto che è emerso dallo studio della sua vita che quando ha 20-21 anni è ammalato nel 36 35-36 non dà gli esami e a casa e per il seminario dell'epoca era segno di non vocazione ebbene lui andrà all'URD e all'URD guarisce e certamente quell'esperienza l'ha aiutato tantissimo a mettersi poi nei panni durante i suoi due anni in ministero dei malati e tutti i pochi sopravvissuti ricordano che lui andava a trovare tutti i malati arrivava non solo per pregare ma portando la cesta coi viveri perché per guarire ci vuole il mangiare allora da dove ha trovato la forza Giovanni è da aver scoperto che attraverso le sue fragilità fatiche il Signore l'aveva accompagnato a capire cosa vuole cosa significa voler bene agli altri amare senza misura Don Angelo siamo ancora nel periodo natalizio in questa trasmissione abbiamo introdotto anche il primo personaggio che abbiamo avuto con noi richiamando molto alla dinamica dell'incarnazione sembra quasi un paradosso ma pare che i Santi sono quegli uomini che parlano nella lingua degli uomini di oggi pare che mi stia dicendo giusto? Una delle poche testimonianze della predicazione di Giovanni era il fatto che parlava e si faceva capire perché usava gli esempi di vita della gente i giovani dicono parlava come noi ecco penso che sia stata davvero una caratteristica di Giovanni e di aver imparato dall'esperienza della gente come stare accanto a loro e di cercare nel momento in cui le situazioni in quella piccola parrocchia si fa sempre più difficile di dire io non mi posso mettere da parte in sagrestia in chiesa a pregare e invocare l'aiuto solo dall'alto ma bisogna che mi sporco le mani e lo ha fatto finché è stato possibile portando la carità a chi aveva più bisogno e lo ha fatto fino all'ultima sera della sua vita pensate che le SS che avevano compiuto la strage di Montessole che si erano messe nella sua canonica quindi si ritrovò ad avere in casa coloro che avevano sterminato molta della sua parrocchia la sera del 12 ottobre organizzarono una festa di compleanno e invitarono alcune ragazze sedicenni del paese Giovanni quella sera pensò che non poteva stare in casa ma che doveva andare alla festa e probabilmente proprio la sua presenza alla festa rovinò i piani di divertimento dell'SS e per questo il giorno dopo si scatenarono con ancora più violenza nei suoi confronti ecco fino all'ultimo si chiese e cercò di stare con la gente che gli era affidata Don Angelo io ti chiederei una brevissima descrizione di questo martirio che ha dovuto subire Don Giovanni Allora le notizie sono pochissime perché le truppe SS volevano tenere nascosto sia il grande ciglio che era avvenuta sulla comunità di Montessore sia i testimoni e probabilmente uccisero Don Giovanni Fornasini perché nelle lettere ufficiali che venivano scritte tra il segretario del comune e la provincia verrebbe detto che lui era un testimone e quindi certamente decisero di annientare un testimone scomodo perché se avesse rivelato che le truppe naziste avevano sterminato dei civili questo avrebbe rotto ogni fiducia rispetto al nazifascismo in quel momento e su Montessore dopo l'ecidio non aveva più potuto salire nessuno e quindi Don Giovanni non era mai potuto andare a vedere cosa era successo e su c'era un suo amico prete della stessa età e aveva insistito per andare il giorno 13 ottobre il giorno dopo la festa il capo della SS gli permette di andare ma Don Giovanni poi alla sera non torna le SS diranno alla madre che il pastore è caput solo ad aprile il fratello dopo diversi mesi lo troverà dietro al cimitero di San Martino solo recentemente abbiamo scoperto che è stato ucciso massacrato di botte i violenti che pensavano di dominare con la loro violenza non potevano sopportare un uomo che continuava a voler bene e che cercava segni di carità di aiuto e per questo sfogono su di loro la loro violenza perché non sopportano la fede da cui nasce tanta carità e il martirio di Stefano il martirio di Stefano sì e accanto a lui su Montessone appunto è morto il suo compagno che è Don Ubaldo Marchioni il primo giorno della strada muore sull'altare di Casaglia mentre va a consumare l'Eucaristia e mentre la sua gente viene uccisa al cimitero e così come muoiono altri tre preti Don Ferdinando Casagrande Don Elia Comini padre Martino Capelli tutti per la scelta di stare accanto alla gente Don Angelo per noi sappiamo che la storia ecco in qualche maniera poi ha avuto ragione perché ecco Don Giovanni Fornasini è stato proclamato beato noi siamo convinti che questa figura davvero può riaccendere quella passione nei confronti della gente proprio a partire da questa vicenda cruda ma che davvero è di forte forte impatto e per questo noi l'abbiamo voluta trattare e ti ringraziamo per essere stato con noi in questa mattinata e per avercela descritta anche se solo per pochi minuti purtroppo meriterebbe un approfondimento ulteriore e ti invitiamo ecco magari a renderti disponibile nelle prossime settimane per continuare a parlare di Don Giovanni Fornasini grazie per essere stato con noi grazie pace e bene grazie a voi dell'accoglienza sono certamente disponibile grazie grazie di cuore allora noi fra Ezio chiudiamo la prima puntata del 2022 è una puntata molto bella interessante con figure davvero importanti e straordinarie ci rivediamo la settimana prossima augurando a tutti pace e bene grazie grazie